Nell'unione del Lugnale Dancio Sant'Oriera Con il numero 1 Con il numero 23 Fabio Con il numero 2 Cristiano Con il numero 33 Fabio Con il numero 21 Silvone Con il numero 14 Mike In Con il numero 28 Gerard Con il numero 5 Cristiano Con il numero 19 Agustin Con il numero 7 Sebastiano Con il numero 9 Manuel Allena Mister Visto E' 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 E'